Allora io colgo l'occasione, ti sfrutto, perché sfrutto un esperto che si chiama? Dustin Dustin, dammi una mano tu, io voglio un occhiale da professore perché voglio fare bella figura e dare... Professorone Vado Pronto Faccio abbastanza professore così, quelli proprio che sanno le cose, guarda come sono dritto, eh? Come vado? Stanno malissimo, no? Mi immagino che... Io non voglio immaginarmi neanche, devo essere veramente inguardabile Ma adesso passiamo al professore estivo, passiamo al professore più estivo, un po' professore, un po' così... 2014, estate 2014 Super fucsia proprio Beh così, ragazzi questo è... questo no, no, questo è Mughini perché... Io trovo sinceramente Edda, 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 fa molto Mughini Comunque ti ringrazio, Dustin, dove siamo esattamente? Come si chiama questo negozio qua? Siamo da Ottica in Affari SRL, qua in Viale 20 Settembre a Trieste Meglio di così Edda, Edda